Ed eccoci qui al locale H24 che è una bisteccheria, pizzeria, ristorante sulla via di Burtina dedicata alle auto, alle moto Siamo oggi a un evento di autoraduno dedicato alle BMW, vedete lo stand della BMW, medici Ciao, grazie, salutiamo che ci ha fatto divertire prima con delle acrobazie Qui vediamo delle auto con del wrapping, la Feudal, anche questa è della Feudal Abbiamo anche alcuni show di Roma, abbiamo tutte di BMW, qui abbiamo un'altra della Feudal, una Smart E hanno fatto delle prove di stunt, un raduno in questo grande, come potete vedere, locale Dedicato proprio ai motori, possiamo dire Ma non solo, lì abbiamo la sala, la sala ristorante all'interno, ma anche all'esterno, ristorante E qui, ecco, lì c'è verso Tivoli, questa è la via di Burtina Lo trovate all'altezza del bivio di Guidonia, poco dopo il centro commerciale Tiburtina Vedete le BMW parcheggiate e questo meraviglioso locale H24 Drink and food, ma soprattutto drink, food and motors Ciao